Si era un attimo bloccato, allora riprendo, quindi attira l'ispirazione e inizia a creare gioiosamente qualcosa di nuovo e fallo senza giudicare, la creatività e la magia sono l'eredità che hai ricevuto come espressione del creatore, quindi lascia le scorrere attraverso di te, è bellissimo questo messaggio, veramente bello. Vediamo l'altro oracolo che cosa ci dice. Onora le tue radici e se ne hai l'occasione e fai ricerche sulla genealogia della tua famiglia, passa a salutare i tuoi nonni o fai una telefonata ai tuoi genitori. Questo è il consiglio che ci stanno dando i nostri cari maestri ascesi per mettere in pratica questa magia perché tante volte noi ci dimentichiamo che non siamo venuti qua da soli, siamo dei discendenti, siamo discendenti di una famiglia. E magari andando a scavare anche nel tuo passato e nel passato della tua famiglia puoi scoprire anche delle cose che ti potenziano. Per esempio io sono andata a vedere che mia nonna era una grandissima commerciante, lei faceva i soldi come? Non aveva niente da vendere e andava al mercato e in cambio delle monete spicciole perché in quel periodo non avevano praticamente gli spiccioli da dare in cambio, i commercianti. C'era un mercato e non avevano il resto, allora lei approfittava dell'abbondante quantità di spiccioli che aveva e in cambio gli davano la carne, gli davano il latte. Lei era molto molto intuitiva per quanto riguarda il commercio, quindi questa cosa a me mi ha fatto capire. Dice Giorgia ok, tu discendi da una famiglia di persone molto creative che comunque sia sanno sempre ricrearsi, non si abbattono, sono delle guerriere. Anche la mia nonna, la mia bisnonna erano così, il mio bisnonno è andato in America, ha fatto la fortuna lì. Quindi conoscere e onorare i tuoi avi ti permette di dire ok, questa energia mi è stata trasferita da loro, quindi anche io ce l'ho. Ok, servono per darti il fuoco, per darti il coraggio di fare quello che non hai il coraggio di fare. Ok, questo è il messaggio per la settimana. Scrivetemi se vi stanno piacendo questi messaggi, a me mi stanno tanto tanto dando tanta energia. Mazzetto number 3, chi è che l'ha selezionato raga? Io non vedo i vostri commenti, poi dopo sicuramente mi arriveranno dopo, adesso però non li vedo. E poi volevo dire, se volete fare una lettura con me, perché in questo periodo ne sto facendo diverse, e le persone mi dicono tutti che si sentono potenziate da queste letture, perché in realtà queste letture servono a farci scoprire quei doni di cui noi ci siamo completamente dimenticati, a potenziarci, a potenziarci, a farci scoprire quei poteri di cui noi ci siamo dimenticati. Quindi se vuoi fare una lettura qui sotto, scusami, se vuoi fare una lettura con me personalizzata, mi scrivi qui sotto lettura e io ti ricontatto e ti faccio capire come si fa. Mazzetto number 3, Daniela l'ha scelto e voilà! Spirito del maiale, che carino! Guarda Daniela che carino questo maialino, sta sulle bolle, c'ha pure le ali, ma è proprio bellissimo. E il messaggio è, usa la mente in modo saggio, infatti i maiali sono molto intelligenti. Lo so che sia una cosa un po' strana, però ti sta dicendo questo. Allora, vediamo subito il messaggio sull'oravolo, sono curiosissima se ti do dire la verità. Non mi era mai capitato, è la prima volta che mi capita lo spirito del maiale, quindi sono super curiosa. Allora, lo spirito del maiale, aspettate eh! Lo spirito del maiale si manifesta per rammentarti l'uso corretto dell'intelligenza. Un dono che tutti abbiamo e che dovrebbe essere utilizzato con amore, con passione e discernimento. Intelligenza significa riconoscere il valore dell'intuizione abbinata a un certo acume e al buonsenso che conduce a soluzioni intelligenti. Quando appare lo spirito del maiale, sei invitata a rispettare la tua mente analitica e a usarla per il bene supremo, riconoscendo che occorre considerare tutti i fatti anche quando non coincide con quello che già sai. Lo spirito ci benedice con la saggezza quando permettiamo allo spirito del maiale di sospingerci verso una mente aperta, il dialogo riflessivo che sia con gli altri o con noi stessi, mentre dimuginiamo le nostre idee e quello che siamo riusciti a capire. Tu sei intelligente, sei in grado di pensare chiaramente grazie alla saggezza che hai accumulato, quindi sei una persona molto saggia e all'intuito perché oltre alla sapienza di quello che abbiamo nella testa, ovviamente quello che ci rende anche donne è l'intuito, no? E all'intuito che ti dirà quando devi acquisire più informazioni perché mancano degli elementi. Questo è il momento in cui il tuo potere decisionale è affidabile perché sei allineato con l'intelligenza acuta dello spirito del maiale. Messaggio di protezione. Stai per caso rimuginando, pensando e ripensando alla stessa cosa, ma senza riuscire ad avvicinarti a una decisione o soluzione? Lo spirito del maiale è qui per proteggerti dalla paralisi dell'analisi, in inglese dicono analysis paralysis. Lascia riposare la mente adesso e consente alla tua intelligenza di mischiarsi con i misteri della guida intuitiva, lasciando la presa sui fatti e sugli enigmi insoluti che si tratti di una relazione o di qualsiasi altro aspetto della vita. Ti sta dicendo se ti stai scervellando a pensare sempre alla stessa cosa, lascia perdere. Adesso lascia riposare la tua mente, smetti di pensare a quella cosa, focalizzati su un'altra cosa. In realtà, questo potrebbe essere il momento giusto per pensare ad altro, ecco qua. Accantonando per un po' la tua esigenza di sapere, cioè dici, oddio, devo trovare una soluzione, devo trovare una soluzione, devo trovare una soluzione. No, non devi trovare nessuna soluzione adesso. Quando il pensiero è inquinato dalla paura, ecco qua, e dall'ansia, lascia che lo spirito del maiale ti riporti al corretto utilizzo della tua intelligenza naturale. Fai una pausa, rilassati e sbarazzati della preoccupazione. Ben presto la soluzione più intelligente diventerà chiara. Forse avrai bisogno di maggiori informazioni, di svolgere un'analisi più approfondita, per acquisire più elementi e di porre altre domande. Quando cerchi di apprendere più cose, goditi il processo che impegna la tua capacità intellettiva. In questo momento, tutti gli elementi della tua intelligenza ti stanno guidando in modo affidabile. Adesso che hai concesso una pausa alla tua mente, quindi, Daniela Cara e tutti quelli che hanno scelto il mazzettino numero 3, Ok, la tua intelligenza è un dono prezioso, mischiata al tuo intuito, ok? Però, se ti stai arrovellando appresso a una situazione, lascia stare, concediti una pausa, metti pausa un attimo alla tua mente, distraiti, fai quello che ti piace fare, leggi, canta una canzone, mettiti a ballare, questi sono i miei modi preferiti per distrarci, colora, esci, vatti a prendere, che ne so, un caffè con un'amica, fai altro. Benissimo! Messaggio dei decreti. Questi effetti meravigliosi sono merito mio, devo dirmi bravo! Legge di causa ed effetto, bellissimo! Finalmente vedrai il risultato di un progetto a cui stai lavorando da tempo. Solo quando eserciti il tuo libero arbitrio stai scegliendo ciò che vuoi veramente. Se non scegli verrai scelto, infatti anche non decidere ha delle conseguenze. Se da piccolo non potevi opporti, oggi puoi. Valuta le situazioni accuratamente con ponderazione e amore. Scegliere è un atto di libertà che ti dà effetti meravigliosi. Allora, adesso questa carta ci sta dicendo di scegliere, però è molto collegata in realtà a questa qui, perché ti sta dicendo che devi scegliere però non con la preoccupazione, con la paura, ma con l'amore. Cioè, mettendoti in un'energia di dire qualunque cosa io scelgo, questo è il consiglio che do sempre a me stessa e ai miei clienti, qualunque cosa io scelgo è una scelta ottima. Ok? Perché comunque tu imparerai qualcosa da quella scelta, quindi stati tranquilla, fai pure le tue scelte, sapendo che qualunque cosa scegli ti porterà a una direzione che puoi sempre cambiare, non è che è scritto sul marmo. Ok? La nostra vita è un flusso continuo, fluida, molto molto variabile che può cambiare in qualsiasi momento. Quindi fai le tue scelte ma con amore. Se ti è piaciuto questo mazzetto scrivimelo. Ecco, vi ripeto, se volete fare una lettura personalizzata sul vostro registro akashico, per fare la lettura si intende praticamente scegliere quattro domande, di solito faccio fare quattro domande, che possono essere su qualsiasi argomento. Per esempio, perché la mia anima ha deciso di incontrare questa persona, quali lezioni vuole imparare, oppure qual è la mia missione dell'anima e quali sono i miei talenti, come posso metterli a frutto nella mia vita, come posso fare per aprirmi all'abbondanza, su che cosa mi devo concentrare per dare una svolta in ambito sentimentale, nel lavoro, in famiglia. Potete farmi tutte le domande che... no, farmi, fare ai vostri registri akashici tutto ciò che... potete chiedere tutto ciò che volete, perché i registri akashici sono il libro della vita, ok? Esistono in tutte le religioni e contengono tutte le esperienze che la nostra anima voleva fare prima di incarnarsi su questa terra. Quindi ti aiuterà a dare un senso più ampio a tutte e magari anche le difficoltà che stai vivendo in questo periodo, a vederle da un punto di vista dell'anima, non solo dal punto di vista nostro, umano, che è sempre lì a preoccuparsi, ok? Quindi se vuoi fare una lettura con me, mi scrivi lettura qui nei commenti e io ti contatto. Per oggi è tutto, avete abbastanza materiale per lavorare questa settimana sulla vostra magia, sui vostri sogni, sui vostri pensieri limitanti e per trasformarvi in pensieri potenzianti. E noi ci vediamo questa settimana con una bella direttozza. Ciao ragazzi, buona domenica!